No, sono fermo! No! Ho preso a testate il tavolo Cosa? Ho preso a testate il tavolo Ciao mister Panananananana Dai via via, andiamo, andiamo Allora Questa base Sto cadendo madonna, sto ritardando C'è, lo spazio è un po' andato Ma questo è easy, in teoria In teoria? Pure questo in teoria dovrebbe essere easy Ma io ci credo Pure questo in teoria dovrebbe essere easy Oh sì Ciao Vabbè, stai a partire TAI Sì, proprio Così 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 Vai Easy Easy, ez ez Eccola Sì 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 Te che punto sei? Sì 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 Muovi il culo dai Ciao Scarsona Dai muovi il culo, che tanto io ti raggiungo Sì 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 Oh Che jussi Nooo nooo Fra ma basta schiacciare spazio Beh lo sto a fare o mi sale Madonna che fatica va bene ma va a cagare no però non ce la faccio ce la faccio vado pianissimo non funziona prendi il tuo tempo lo faccio così 2 ore 2 ore fa sempre un po' di non viola forse che cane hai bagato no 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 ma che versi sono sto trajerdando quando trajerd faccio sti vers madonna sono le 2 e mezza di notte e noi stiamo facendo sta cagata ok l'ho fatta easy andiamo allora qui devi oddio ok non me l'aspettavo no 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 che cazzo 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 no ok il checkpoint almeno che stavo ma io ci arrivo c'ho troppo basso addio addio amici addio noi ci dobbiamo lasciare ora basta basta adesso voilà preciso sul checkpoint ok ok ma io io muoio io muoio così ciao ciao madame 2 days later questa è una cagata non c'è bisogno che saldi questa va per dritta per dritta superano sei caduto è il bello che andavi dentro sei caduto nel buco fra ma quello è il vuoto e un blocco bianco vabbè cagare non mi assaltare non mi assaltava send kair to and va a cagare spacchettamento in live che schifo che schifo ma che schifo l'ultimo basta che merda no ok va a cagare però dai oh cristo dio ah vabbè stavo agendo molto ma dai adesso ti faccio la coccia un attimo stata allora vediamo un po' dai oh oh bravo dai spazio si usa spazio smetti ora questi rossi non li vedo neanch'io però tu salta devo mettere la sigla di one punch man per mentira ti prego che cosa succede ma cos'è te lo stavo c'è un altro buco ok fra fra ma no no fra tu adesso che stai sbagliando non sai cosa ok per censurarlo metterò un gattino bravo bravo c'è la droga non ti manca quanti salti sono ancora sono una decina oh madonna fra ma è impossibile è lunghissimo ok metterò un timelapse ma dai no dai oh allora partì un timelapse no sono fermo fra no sono fermo no presa a testate il tavolo cosa presa a testate il tavolo no oh no non aspettate il tavolo intendo facile voglio non si Grazie a tutti.